Benvenuti a Miami Inc. Oggi a Miami Inc., Ami si prende un periodo di svago, mentre noi lavoriamo come sempre. Elizabeth si fa tatuare un simbolo egizio per segnare l'inizio della vita da sola. Bellissimo. Kat dimostra di essere un tipo sensibile. Daniel usa il tatuaggio con il teschio spagnolo per chiudere con un umiliante passato. Jay sa quello che vuole e non si accontenta. Sylvia si identifica con una donna asiatica dallo sguardo fiero, e Joy si trova a dover aspettare la nostra amata Kat. Avevi un appuntamento? Cosa? Questi sono i nostri clienti. Le loro storie diventano leggende personali attraverso i tatuaggi qui a Miami Inc.